L'hai rotta! Adesso non si chiude più. Adesso si dovrebbe ubriacare. Ok, ok, amici. Ci siamo riusciti, finalmente. L'abbiamo fatto ubriacare. Meno male. Benissimo. Bene, bene, ragazzi. L'abbiamo fatto ubriacare, finalmente. Benissimo. Non ho dato io l'idea. Una tigra non può cambiarsi le strisce. Vediamo cos'hai addosso, eh, marinaio? Quindi te lo stai sempre per andare. Marinaio Anselmo Naranca. Guardia marina di terza attenzione. Non hai l'aspetto di uno che si presenterà al lavoro domattina. Sì, sì, sì. Ok, abbiamo preso quello che ci serviva. Questo sta a telefono, non ce ne frega, ce ne andiamo. Ok. Allora, adesso a questo punto vediamo dove dobbiamo andare. Andiamo da qui. Sì, dobbiamo andare da qua, esatto. Sì, 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 sì. Ok. Adesso andiamo a salire le scale. Ce ne andiamo da qui. Sì, poi dobbiamo andare da qua. Ok. Adesso saliamo al piano di sopra. Benissimo. Manny Calaveral, non venite più a trovarmi. Beh, pensavo che avrei potuto utilizzare la compagnia. Benissimo. Oggi che tutti sono fuori per il giorno dei morti. In questo caso, Manny, perché non vi fate un giro fino alle sei? Io smonto a quell'ora. Guarda, lo so, guarda. Che si fa? Posso provare il vostro metal detector? Perché questo improvviso interesse nei metal detector, Manny? Sono solo un collezionista. Beh, ve lo mostrerò durante la pausa pranzo, va bene? Sei nata dura? Per niente. Sono già andati tutti via per le vacanze. Questo posto è un mortorio. Io mi annoio, Manny. Mi annoio. Quando fate la pausa? All'alba. È troppo tardi. Devo salpare stanotte. Sì, come no. Mi hanno fregato già troppe volte con questa frase. Credo che sia ora di pausa. Potremmo bere qualcosa nel retro e voi potreste raccontarmi tutto del vostro lavoro. Il pericolo. I metal detector. Il retro è impegnato per lavoro, Manny. E lo sono anch'io. Vabbè. Mettiamo così. Bene, arrivederci, Carla. D'accordo, Manny. Facciamo una cosa. Mettiamo il whisky. Magari un goccetto soltanto. Ah. Per cortesia, signore, vogliate posare tutti i vostri effetti personali sulla scrivania. Ah, siete pulito. Maledizione, Manny. Stavo quasi per farvi una perquisizione corporale. Siete sicure che non posso... Non toccatelo. Siete sicure che non posso... Non toccatelo. Siete sicure che non posso... Non toccatelo. che non posso... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.